Ormai è diventato un appuntamento fisso. Parliamo del raduno Mountain Bike, organizzato dall'associazione Midi Straton e giunto alla sua sesta edizione. Tanti amatori di questo sport, quindi, si sono radunati nel centro amastratino per questa nona tappa del Mountain Bike Hikes, che porta tanti ciclisti in giro per la Sicilia, alla scoperta di borghi, paesaggi e peculiarità della nostra regione. Di buon mattino i partecipanti sono stati accorti presso Piazza San Felice per la colazione offerta dai membri dell'associazione e poi partenza prima per le vie del centro storico e poi tra i boschi e i sentieri del Parco dei Nebrodi, per poi rientrare a Mistretta al maneggio comunale per un momento di combivialità e amicizia. Questo evento sportivo è anche un modo per far visitare agli amanti della Mountain Bike le varie città ospitanti, ma anche creare relazioni tra le varie associazioni ciclistiche, che vedono in questo sport un mezzo per socializzare e apprezzare le bellezze, anche quelle enogastronomiche che la nostra isola ci offre. Per il nostro è il sesto raduno che facciamo, per il tour MBH è la nona tappa del nostro gruppo. Il nostro gruppo MBH copre tutte le province, ci manca soltanto Trapani, però abbiamo anche una rappresentanza di Trapani. Tutte le province sono coperte con diverse associazioni e andiamo di paese in paese a scoprire nuovi posti. È sempre un piacere partecipare a MBH, lo scopo di MBH, come diceva Peppe, è appunto di creare degli eventi dove uno si sente in famiglia. Deve essere un piacere partecipare, ritrovarsi dopo una settimana, due settimane, ma soprattutto far conoscere il territorio che altrimenti non avremmo conosciuto. Qui nel 2016 abbiamo pensato facciamo questo tour e coinvolgiamo le associazioni. Siamo partiti in quattro, tra i primi c'erano anche i ragazzi di Sommatino e quindi da allora ci siamo allargati in tutta la Sicilia. Con grande soddisfazione abbiamo coperto quasi tutto il territorio. Questo circuito bellissimo dell'MBH che ci permette di visitare luoghi che ci saremmo sognati di vedere, perché ci sono posti irraggiuncibili con le macchine e valorizziamo così i posti, la nostra bella Sicilia e il nostro bel mangiare perché dopo tutto va a finire la socializzazione.